Salve a tutti e bentrovati. In questa lezione vorrei brevemente accennare qualcosa in più riguardo Pietro Abelardo, che fu una delle figure sicuramente più significative del Medioevo e soprattutto una figura filosofica di importanza fondamentale, perché figura di passaggio, quindi figura soglia, liminare tra il 1100 e il 1200, secolo della scolastica matura. Ma come precisavo nel corso della precedente lezione, non avrò modo di dedicare più di una lezione alla figura di Abelardo, però riserverò sicuramente una serie di podcast ad Abelardo, che faranno parte di tutto un ciclo di podcast dedicati a spunti, riflessioni ed approfondimenti su temi filosofici, che saranno spero presto disponibili sul mio sito e accessibili tramite abbonamento, e naturalmente renderò pubblico su YouTube il lancio di questa nuova sezione di podcast sul mio sito. Torniamo ad Abelardo. Abelardo nacque nel 1079 a Nantes. Dapprima si fece conoscere insegnando dialettica in varie località della Francia e successivamente, dal 1113, insegnò proprio teologia presso la scuola cattedrale di Parigi. Abelardo era dotato di una straordinaria potenza dialettica ed era soprattutto convinto dell'altissimo valore della ricerca filosofica, tanto che il suo impegno fu ampiamente ricompensato quando ottenne a Parigi un successo tale che il suo nome finì per associarsi alla scuola di Parigi, dando tra l'altro un grande impulso all'università che da essa sarebbe nata. Abelardo però, successi a parte, fu anche una figura estremamente controversa e la sua relazione amorosa con la giovane Eloisa, di cui fu maestro e precettore, la sua straordinaria capacità dialettica e il suo carattere fortemente polemico, a fianco a lodi ed elogi, gli portarono anche persecuzioni e condanne. La sua dottrina trinitaria venne infatti duramente condannata come eretica nel concilio di Suasson e ci troviamo nel 1120 e a ciò aggiungiamo anche altri problemi personali e dottrinali che gli complicarono moltissimo l'esistenza fino alla morte avvenuta nel 1142 a soli 63 anni di età, che comunque certo nel Medioevo era già un'età. Abelardo venne sepolto nell'oratorio detto Paracleto o Spirito Santo presso lo Jean-sur-Seine, oratorio presso il quale per molti anni Abelardo aveva insegnato e sappiamo che accanto a lui venne sepolta la stessa Eloisa che a differenza sua lo aveva amato per tutta la vita. Ricordiamo brevemente le opere più importanti di Abelardo, Il sì e il no, Il trattato sull'unità e Trinità Divina, introduzione alla teologia, la teologia cristiana e l'etica o conosci te stesso. Di notevole importanza anche letteraria sono le lettere scambiate con Eloisa, con la quale lo ricordiamo ancora una volta Abelardo ebbe la storia più famosa del Medioevo, storia dalla quale Abelardo ebbero ogni svariate, tanto che una di queste lettere ha il titolo piuttosto evocativo di Storia delle mie disgrazie ed è infatti una sorta di autobiografia. Abelardo è un risoluto sostenitore della ragione e dei diritti della ragione. Egli ritiene che non si può credere a nulla se prima non si sia compreso il contenuto di ciò a cui ci viene chiesto di credere. Abelardo è dunque favorevole alla formula dell'intelligo ut credam, comprendo per credere e che bisogna in ogni caso sempre discutere se si debba o no prestare fede a determinate questioni. All'autorità bisogna credere solo finché non si è scoperto il motivo razionale, la dimostrazione di ciò che tale autorità insegna, ma l'autorità non ha motivo di esserci quando la ragione trova il modo di accertare da sé la verità. La discussione è centrale in ogni questione, secondo Abelardo. Se non si discutesse su ciò che si deve o non si deve credere, non rimarrebbe che prestare ugualmente fede sia a quelli che dicono il vero sia a quelli che dicono il falso. La ricerca filosofica viene da Abelardo incanalata per la prima volta su nuove basi. Nella sua opera Si e no, Abelardo raccoglie le opinioni dei pari della Chiesa e le ordina in modo tale da farle apparire contemporaneamente come la risposta positiva e negativa allo stesso problema. Lo scopo di Abelardo non è certo quello di criticare i pari della Chiesa, ma quello di mostrare la necessità di utilizzare la ragione per risolvere il contrasto delle opinioni e arrivare alla soluzione. In seguito questo metodo, dapprima considerato troppo ardito, divenne successivamente una metodologia operativa propria di tutta la scolastica e si mantenne tale fino alla fine della scolastica stessa. Il metodo consiste nello stabilire un acquestio, ovvero una questione, un problema, e di enunciare gli argomenti che si adducono pro o contro la questione, e infine scegliere sulla base delle argomentazioni una delle due soluzioni e confutare la soluzione opposta naturalmente. Il valore che Abelardo attribuisce alla ricerca lo porta dunque ad attribuire grande importanza agli stessi filosofi pagani. Anche costoro hanno cercato e trovato la verità e per questo motivo Abelardo era convinto che tra loro e l'insegnamento del cristianesimo ci fosse un accordo fondamentale. In particolare i filosofi pagani, secondo Abelardo, avrebbero addirittura conosciuto la Trinità. Platone ha infatti scoperto che l'intelligenza divina è nata da Dio ed è eterna e coeterna con Lui. La dottrina dell'idea platonica nella fattispecie e considerò l'anima del mondo come una terza persona che procede da Dio ed è la vita e la salvezza del mondo. Dio, l'intelligenza e l'anima del mondo costituiscono pure la Trinità cristiana. Dottrine teologiche. Le dottrine teologiche di Abelardo si fondano su questi presupposti. Egli ritiene che la distinzione delle tre persone divine sia interamente fondata sulla distinzione degli attributi. Con il nome di padre si indica la potenza della maestà divina per la quale essa può fare tutto ciò che vuole. Con il nome di figlio o verbo si disegna la sapienza di Dio per la quale egli può conoscere tutto con assoluta verità e infine con il nome di Spirito Santo si esprime la carità dell'amore divino per la quale Dio vuole che tutto sia disposto nel modo migliore e che tutto sia indirizzato al miglior fine. Questa interpretazione trinitaria da parte di Abelardo fu combattuta accanitamente da San Bernardo al quale parve che Abelardo non stesse salvando la realtà sostanziale delle persone divine ridotte ad aspetti o attributi di una divinità unica quindi Abelardo come fondatore del modalismo da cui ne derivò la condanna dello stesso. L'azione di Dio nel mondo è poi secondo Abelardo necessaria perché essa è sempre come deve essere ed è tutto ciò che deve essere necessariamente perché Dio non può volere che il bene e il bene non può essere in nessun caso tralasciato da Dio. Tutto ciò che Dio fa è quello che egli poteva fare. Ammettere che Dio avrebbe potuto fare altrimenti da ciò che ha fatto significherebbe togliere all'azione di Dio ogni fondamento e alla sua scelta ogni motivo. In tal caso difatti non ci sarebbe nessuna ragione del fatto che Dio ha creato il mondo in questo modo anziché in un altro e la volontà di Dio sarebbe dunque ridotta ad un cieco arbitrio. Dal necessitarismo abelardiano ne deriva anche il suo ottimismo metafisico cioè tutto ciò che accade accade per volontà di Dio e Dio non può voler altro che il bene. Anche il tradimento di Giuda però rientrerebbe nell'ordine providenziale perché senza di esso non sarebbe stata possibile la redenzione dell'umanità e come il tradimento di Giuda lo stesso vale anche per tutti i mali del mondo compresa la crocifissione del Signore. Insomma questi eventi avrebbero la loro ragione in un discorso di finalità che all'uomo rimangono nascoste e questo aspetto non piacque alla Chiesa più di tanto. Passiamo infine all'antropologia e all'etica. L'uomo per Abelardo porta in sé l'immagine della Trinità Divina. Ciò che nella Trinità è la persona del Padre nell'uomo è la sostanza dell'anima. Il figlio corrisponde alla virtù e alla sapienza e in ultimo lo Spirito Santo è ciò che nell'anima umana corrisponde alla capacità di vivificare. Per Abelardo l'uomo è inoltre libero perché l'uomo è in grado di agire in base ad un giudizio razionale. Non è libero solo e se l'azione umana non è determinata da un giudizio razionale ma è imposta da una forza estranea come ad esempio da un istinto, cosa che appartiene agli animali e non dovrebbe appartenere all'uomo. In questa libertà si radica l'azione morale dell'uomo. Abelardo concepisce la vita morale dell'uomo come una continua lotta della volontà razionale contro l'inclinazione naturale. L'uomo pecca quando invece di combattere con la ragione questa inclinazione acconsente ad essa e vi dà libero corso. Dunque per Abelardo c'è una netta distinzione tra vizio e peccato perché il vizio lo puoi combattere attraverso la ragione affinché l'uomo poi non pecchi. Basta però anche solo l'intenzione a determinare il peccato. L'azione peccaminosa che ne segue non aggiunge nulla all'atto con cui l'uomo acconsente all'inclinazione viziosa e disprezza il valore divino. Sono diciamo queste nelle linee generali le nozioni fondamentali su Abelardo con cui chiudiamo anche il video di oggi. La prossima volta ci concentreremo invece sulla scuola di Chartres e sull'interesse della scuola di Chartres per la natura e acceneremo anche alla mistica. Grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima!